Se gli spiriti non vogliono, ci sono cose che non potremo mai sapere. Io so che la morfina aiuta la gente liberandola dal dolore. Ma con Tom è terribile, sembra che gli abbia fatto più male che bene. Capisco. Sta guarendo e il dolore diminuisce ogni giorno, ma... Ma non è questo il punto? Come posso contare ancora sulle mie medicine? La corteccia di Salice porta via dolore e paura, io l'ho visto e anche tu. Ma cosa c'entra questo con... Non l'abbiamo sempre saputo. Abbiamo provato certe erbe e facevano male. Altre invece bene. Con la morfina è lo stesso. Avete imparato strada facendo? Ed è quello che hai fatto tu. Dove sei stata? Sono stata fuori in cerca di risposte. E lo hai lasciato qui a soffrire? Ma non lo senti come sta urlando? Ha bisogno di quella morfina, gli serve adesso. Ho deciso di non dare più morfina a Tom, Dorothy. Cosa? Lo voglio liberare usando un rimedio analgesico che mi ha dato nube che corre. Medicina indiana? Lui serve la tua medicina. Insomma, non lo capisci. Ne vorrà sempre di più e di più, fino a che si ucciderà. Perché mi stai facendo questo? Io credevo che fossimo amiche. E noi lo siamo. Ascolta, non sono io quella che ti fa del male, Tom. Tu gli hai sparato, tu gli hai tagliato la gamba. Sei tu quella che lo lascia lì a soffrire. No! No! No, Dorothy! No! Lasciami! Lasciami! Non voglio! Lasciami! Sto facendo la cosa migliore per tutti e due! È mio figlio, Michela! È mio figlio! Però Laura Laura lei 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 lascia lei 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 dei lei 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 lei